L'utilizzo della bicicletta può rappresentare una valida alternativa ai veicoli a motore. Vogliamo realizzare percorsi ciclopedonali, illuminati e sicuri e collegati alle scuole in interconnessione con Milano e Monza. Inoltre vogliamo favorire le condizioni per il car sharing e potenziare ulteriormente i mezzi pubblici. Sostenere un nuovo trasporto urbano significa cambiare la città.